Come? Ah, Ray mi sta dicendo che io non trasmetto il coronavirus ma tanto amore quindi io resto a casa e vi faccio compagnia Loro il coronavirus non lo trasmettono ma ci trasmettono un sacco d'amore anche se questo gatto è un po' anarchico, fa come gli pare però stargli vicino è la cosa più bella e più rilassante che ci possa essere in questo momento così drammatico e quindi noi stiamo con loro, li coccoliamo e non li abbandoniamo Per niente, miau! Grazie